Davide, dove ci troviamo? Raccontaci. Allora, noi ci troviamo a Caramanico, noto paese della provincia del... Sì, forse, però non credo. Allora, noi ci troviamo a Caramanico. Allora, noi ci troviamo a Caramanico. Quando Davide che esce per l'ultima volta dall'utero delle registrazioni è uscito. Davide, come sono andate queste registrazioni? Medio. Benissimo!